Eccoci qua con mister Rondoni, incontro appena terminato, volto il 87, Cornigliano Calcio, risultato di 3 a 3. Una sintesi mister della partita appena finita? Una sintesi che ci ha visto in vantaggio per tutta la partita, fino all'88 e speravo di esserlo anche ai tre fischi finali. Purtroppo noi siamo una squadra neopromossa quindi dobbiamo ancora un po' farci su alcune situazioni. Siamo stati un po' ingenui nel concedere qualche fallo di troppo, da cui è nato il calcio di punizione, da cui è nato il gol. Poi purtroppo aveva preso un gol sul calcio d'angolo direttamente in porta, il vento ha dato una mano, dobbiamo stare un pochino più attenti. Mi spiace perché penso che tutto sommato faccio i complimenti al Voltri, sapevamo che era una partita difficile perché il Voltri era a zero punti, avrebbe cercato di vincere in tutti i modi, però col segno di poi eravamo sopra di due gol quindi sarebbe stato importante portarla a casa. Sono comunque contento perché la squadra sta crescendo, noi siamo una neopromossa e lavoriamo con fatica. Quindi se andiamo avanti con questa voglia, con questa umiltà, applicazione, possiamo fare solo che migliorarci. Quindi va bene così e cerchiamo di non commettere più gli errori commessi. Bene, grazie mister.